Ben ritrovati a tutti e a tutti a questa terza parte del corso sulle espressioni regolari con la quale iniziamo a vedere in pratica come integrare l'uso delle espressioni regolari in alcuni comandi presenti e già installati e disponibili sul nostro sistema Ubuntu Linux e anche ovviamente in altre distribuzioni Linux. Non è un'esclusiva di Ubuntu che ci siano questi comandi già installati e a nostra disposizione. Fatto sta che sono una serie di comandi da terminale che possono quindi di conseguenza essere integrati per esempio in script bash o fish o quello che vogliamo noi o che ne so un programmi python tutto quello che vogliamo noi possono essere integrati questi comandi i quali a loro volta possono integrare fra le varie opzioni anche quelle anche le espressioni regolari. Per ampliare la loro potenza di utilizzo e la loro duttilità questi comandi permettono appunto di impostare anche delle espressioni regolari. Il primo di questi comandi è proprio il principe se vogliamo metterla così il principe di questi comandi ovvero grep grep permette di fare delle ricerche in file di testo. Grep il cui nome è proprio indicativo vuol dire general regular expression è guardate un po' regular expression print quindi grep ha lo scopo di fare delle ricerche. Un po' come dire analogamente al sito interattive che abbiamo usato fino alla fine del video precedente per testare immediatamente le espressioni regolari anche grep in fin dei conti svolge lo stesso compito noi possiamo impostarlo con una determinata espressione regolare e lui grep ci torna le occorrenze evidenziate di questo filtro corrispondente al filtro delle espressioni regolari. Quindi è un po' come il lavoro del sito interattivo grep fa proprio questo ricerca. Qui una nota che troveremo praticamente identica in tutti i video da questo in avanti fino ai prossimi video è una nota in cui dico semplicemente che questi video non sono un trattato completo e approfondito di ogni singolo comando ma sono dei video che hanno lo scopo di mostrare l'interazione che esiste e l'integrazione che esiste fra questi comandi e l'espressione regolare specificatamente quindi limito un po' il raggio di spiegazione a questo perché grep e altri comandi possono essere anche molto più vasti che non l'uso dell'espressione regolare in quanto tali e quindi ho preferito mettere questa nota non che vi aspettiate un trattato completo di greppo o di altri comandi che seguono. E' semplicemente, oddio semplicemente, questo e i prossimi video sono dei video focalizzati sull'uso ovviamente visto il contesto delle espressioni regolari quindi sono un capitolo dell'utilizzo di questi comandi e non necessariamente un trattato completo dei comandi stessi. Ecco, quindi detto anche questo, di questa nota che appunto la ritroveremo praticamente identica anche negli altri video quindi mi soffermo questa volta visto che è la prima, poi per il resto andremo avanti senza soffermarci più di tanto su questa nota. Quindi partiamo subito con la parte pratica quindi di comandi da terminale. Grep dunque, la versione, come dire, la forma base del comando è ovviamente il comando stesso, grep, più il parametro di cosa cercare, più il file o i file, un gruppo di file, per esempio un asterisco vuol dire utilizza, accedi, controlla, verifica, cerca la stringa in tutti i file che trovi nella cartella corrente, per esempio. Ecco, queste qui sono due forme, le proprie forme base basilari di grep. Oltre a prendere in input in pasto uno o più file, grep può anche prendere in pipe, ricevere l'output di un comando e elaborare questo output cercando sempre comunque una stringa, visto che è il suo compito, il suo lavoro. E giusto così, per fare un esempio, possiamo anche provare questo. Prima di comando facciamo magari ls. Ecco, l'elenco, quindi qui sono già posizionato nel terminale, sono posizionato nella cartella qui di studio delle spessioni regolari dove ho vari file che mi servono poi per i vari comandi e per tutto il quanto segue. Fra i quali c'è anche il famoso testo campione che abbiamo usato durante i video precedenti per dimostrare i vari comandi delle spessioni regolari. A parte questo, quello che volevo fare era dare una piccola dimostrazione iniziale di grep senza espressioni regolari, semplicemente dicendo che ne so, fammi un elenco di tutti i file di questa cartella che terminano con .txt e questo non c'entra niente con grep ma è questo comando praticamente che mi fa l'elenco di tutti i txt e di questo output, appunto dimostrando che grep può prendersi in carico non solo file effettivamente salvati sul disco ma anche testo che esce come output da un comando precedente in pipe diamo in pasto il risultato di questo comando a grep e gli diciamo di cercare, vabbè non stringa ma diamo subito che ne so code, ecco questa parola qua per esempio code gli diciamo cerca code e mostrami se c'è una corrispondenza faccio enter e vedete che ovviamente code, c'è un file solo che contiene nel nome da qualche parte code e lui mi dice il grep mi torna, mi filtra tutto l'output che sarebbe poi questo del comando me lo filtra e mi mostra solo la riga corrispondente con addirittura evidenziato in rosso code, la stringa che io ho cercato vedete quello che dicevo poco fa che grep praticamente svolge lo stesso lavoro del sito interattivo che abbiamo usato in precedenza vedete il sito interattivo colorava le corrispondenze del filtro impostato con l'espressione regolare grep fa praticamente la stessa cosa ci ritorna le parti di testo contenenti la corrispondenza del filtro che gli impostiamo e le colora esattamente un po' come il sito interattivo usato in precedenza qui espressione regolare finora non ne abbiamo ancora viste perché queste sono la forma base di grep cioè questo qui è cosa far filtrare a grep e quindi avete già capito che sarà in questa zona che noi agiremo per impostare un'espressione regolare in questo caso è un semplice stringa di testo che se vogliamo è un'espressione regolare senza comandi particolari ecco se vogliamo metterla così va bene questo è solo un dettaglio pratico dopo cerca le righe che non contengono ecco grep per fare il come dire il not ovvero il non non usa il punto esclamativo ma usa l'opzione meno vi quindi se usiamo così per far capire sempre questo stesso comando ma ci aggiungo l'opzione meno vi vuol dire fa il contrario di prima ovvero filtrami considerami di tutto ad eccezione di tutto ciò che ha nel testo la stringa code quindi faccio enter e vedete che mi escono tutti gli altri file ma non quello che si chiama ubuntu code of conduct eccetera eccetera ecco ma tutti gli altri quindi ha fatto il contrario questo è l'opzione di grep per fare il contrario della ricerca o meglio il cercare tutto ciò che non contiene quanto noi indichiamo cercare il testo ignorando il maiuscolo e il minuscolo si fa col meno i ecco questo è un po' come il flag di cui parlavamo nei video precedenti delle espressioni regolari il flag i che ignora il maiuscolo e minuscolo quindi se io gli dico di cercare code scritto minuscolo mi trova comunque la corrispondenza anche se la c è maiuscola non avessi la i ovviamente non me la troverebbe perché non c'è non c'è nessuna corrispondenza vedete invece con la i me la trova quindi ecco due importanti opzioni di grep il v meno v per fare l'esclusione e la i per ignorare il maiuscolo e minuscolo si può anche fargli stampare il numero di riga trovata quindi adesso vediamo un po' qua dove siamo qua ecco facciamo il meno v ecco il numero di riga questa combinazione del comando dove tratta semplicemente un output vediamo un po' se mi stampa un numero di riga non lo so io ci provo sì lo stampa comunque voilà perfetto ecco le opzioni se sono più di una basta mettere un meno per indicare l'inizio delle opzioni poi si possono anche unire le lettere una dietro l'altra e interpreta le opzioni una dietro l'altra in questo caso gli abbiamo detto di elencare tutto ciò che non contiene code ecco minuscolo rimetto code maiuscolo per precisione così è escluso questo file e vedete che con la n però lo scopo era quello l'opzione n mostra la riga di testo alla quale ha trovato la corrispondenza o rispettivamente non l'ha trovata la corrispondenza ecco dicevo in questa forma di comando dove viene trattato un output di un comando e non un vero e proprio file di testo a poco senso perché qui mette semplicemente un progressivo delle occorrenze trovate usando un file di testo e magari a questo punto vale la pena farlo usiamo il nostro testo campione usiamo gpl mi sembra che contenuto gpl per la licenza nel testo campione è descritta la licenza quindi ecco che vediamo un po' scusate cosa ho messo no non meno vi scusate c'è ancora attiva l'opzione di escludere tutto dico solo il meno n eccoci qua oh va già meglio anzi magari facciamo così puliamo il terminale allora cosa gli dico qui di cercarmi tutte le sigle gpl nel testo campione punto txt che è un file di testo eccolo qua indicandomi anche il numero di riga nel file di testo alla quale è stata trovata e qui vedete che ha già un po' più di senso quindi c'è la quarta riga alla quinta alla settima alla quarantanovesima cinquantaquattresima eccetera eccetera se noi apriamo un attimo in gedit questo file che numerizza le righe vedete che la quarta riga c'è gpl vedete che è la quarta riga alla quinta c'è ancora alla settima c'è ancora poi l'ultima è l'ottantatreesima andiamo all'ottantatreesima dov'è? qua vedete c'è gpl vedete che grep torna proprio la riga corrispondente di testo con la n senza n non ce la scrive con la n si può far comodo avere quell'informazione e ricerca dei caratteri speciali anteporre questo lo sappiamo già anche dalle espressioni regolari stesse anteporre sempre la barra rovesciata la backslash per cercare dei caratteri speciali che altrimenti verrebbero interpretati per una certa funzionalità ecco le classiche vedete i caratteri speciali anche delle espressioni regolari sempre anteporre la barra rovesciata ok poi qui sotto capitolino dove dico che la vera potenza di grep si manifesta con l'uso delle espressioni regolari ecco qui entriamo a chiudere il cerchio ovvero iniziare a usare grep veramente con le espressioni regolari vediamo qualche esempio allora prima di tutto c'è grep che è il comando base diciamo così e c'è un'opzione di grep che può essere no non può essere un'opzione di grep che è meno E maiuscolo che amplia i comandi delle espressioni regolari comprensibili da parte di grep ovvero se noi usiamo grep così le espressioni regolari sono come dire limitate in un certo sotto insieme del vocabolario delle espressioni regolari se noi usiamo l'opzione grep meno E vuol dire estendi estendi ulteriormente il dizionario delle espressioni regolari comprese da grep e non chiedetemi perché è stato creato grep in un modo differenziato nel senso che grep semplice capisce fino a un certo punto espressioni regolari con la meno E va più avanti non lo so forse perché sono meno frequenti certi comandi di espressioni regolari e grep è più efficiente se non le considera sempre non lo so ecco non chiedervi perché è stata fatta questa suddivisione fatto sta che se voi impostate una determinata espressione regolare con e la usate con grep semplice e vi dà un errore o non vi dà il risultato che vi aspettate provate con grep esteso e vedrete che l'espressione regolare verrà compresa dal comando ecco tutto lì un'alternativa o un alias del nome grep che coincide a grep meno E sarebbe e-grep quindi se usate e-grep direttamente come comando è la stessa cosa che se richiamate grep con meno E con l'opzione meno E è esattamente la stessa cosa è un alias è un'alternativa per richiamare il grep esteso come dico qua e-grep oppure grep meno E esempio qui faccio anche un esempio vediamo un po' raggruppare più condizioni di ricerca fra parentesi e la condizione OR vediamo un po' ecco l'opzione OR siccome qui l'ho messo in scaletta deve essere così riporto il comando qui è così no scusate fuoco alla finestra del terminale l'opzione OR dico scusatemi sono perso un attimo stavo pensando a qualcosa l'opzione OR delle espressioni regolari questa qui un gruppo con il pipe in mezzo per dire o una stringa o l'altra l'opzione OR è una di quelle possibilità delle espressioni regolari che il grep semplice non capisce ma il grep esteso sì quindi se usiamo questa forma del comando allora stringa 1 diciamo che cerchiamo GNU oppure stringa 2 GPL sempre del nostro testo campione che ci fa tanto comodo ecco vedete che questo comando cosa fa mi ha tornato tutte le occorrenze dove c'è GNU oppure GPL GNU da solo oppure GPL oppure entrambi sulla stessa riga vedete che ha trovato tutte le occorrenze ecco se uso grep non esteso vediamo cosa succede vedete che non torna nulla non dà neanche errore però capiamo che c'è qualcosa che non va che non è possibile che non ci torni qualche occorrenza ma noi sappiamo che in quel testo campione ci sono le occorrenze ecco quindi in situazioni come queste ampliate le possibilità di grep con meno e o con e grep e vedete che poi funziona ecco questo era solo per esemplificare quanto ho appena spiegato di grep esteso o grep non esteso allora qui non è che sto tanto a soffermarmi perché in realtà noi la teoria dell'espressione regolare l'abbiamo già studiata nei video precedenti qui elenco solo i vari comandi delle espressioni regolari che grep capisce tale e quale come li abbiamo imparati noi ecco le ancore vedete cerca dell'inizio della stringa cerca la fine della stringa col dollaro con il circonflesso cappellino qua questi qui sono i puntino che vuol dire ogni singolo carattere cerca ogni fra le parentesi quadre quindi cerca l'insieme dei caratteri contenuti qui tutte queste cose io le ho elencate qui nella scaletta del video di grep però sono tutte cose che abbiamo già visto nei video precedenti e la sintassi è identica vedete qui è il NOT quindi il cappellino dentro l'intervallo di valori da cercare è il NOT l'asterisco per 0 più occorrenze il più è il quantificatore per 1 più occorrenze cerca 0 più occorrenze ogni singolo carattere quindi puntino seguito dal quantificatore asterisco l'OR è la condizione dell'alternanza quindi l'OPPURE il PIP il punto di domanda che rende opzionale la stringa di ricerca o il carattere che precede il quantificatore tra parentesi graffe quindi specifica quante ripetizioni vogliamo vedete tutte cose queste le passo così le scorro così perché le abbiamo già studiate viste e viste all'opera nei video precedenti e grep appunto essendo proprio un comando che usa l'espressione regolare anche lui riconosce questa sintassi dei comandi dell'espressione regolare poi vediamo un po' cosa dico qui il posto di dare intervalli di caratteri ecco una cosa che non ho detto nei video precedenti e che ne approfitto di questo per introdurre è che c'è un'alternativa ai caratteri specifici che si possono dare negli intervalli tipo questo il classico intervallo fra parentesi quadre cercami tutte le lettere maiuscole dell'alfabeto dalla A alla Z quindi A trattino Z c'è un'alternativa che si chiama che si chiamano classi di caratteri ecco le classi di caratteri sono delle come dire dei termini convenzionali che stanno al posto di quello in poche parole come dico qui invece di A trattino Z io posso mettere parentesi quadre due punti A per due punti parentesi quadre questo A per che in inglese sta per maiuscolo chiaramente sta per l'alfabeto maiuscolo e tutte le lettere maiuscole che ci possono essere quindi questo A per sta al posto fa da segna posto per tutti i caratteri maiuscoli rispettivamente per esempio A Z minuscolo tutto l'alfabeto minuscolo eccolo qua lower e ce ne sono altre di queste classi di caratteri che possono andare a sostituire l'indicazione specifica in questo modo li possiamo vedere a questo sito che adesso io ho aperto ecco questo sito vedete proprio standard posix vuol dire sono proprio standard queste classi di caratteri non hanno niente a che vedere con grep o con espressioni regolari sono delle classi di caratteri che si possono usare nell'espressione regolare però non è che hanno qualcosa a che fare direttamente sono un elemento che esiste di suo e le espressioni regolari le interpretano e si possono usare nelle espressioni regolari quindi eccoli qua vedete alfa tutti i caratteri alfabetici tutti i caratteri ASCII lo spazio i numeri i digit invece della barra di o numeri da 0 a 9 possiamo mettere digit sempre in questa forma tra parentesi quadri e tra i due punti si scrive digit e siamo a posto poi ecco vedete ce ne sono di vari tipi di queste classi di caratteri quindi è un'alternativa semplicemente quindi niente niente di che niente impedisce di scrivere tutto l'alfabeto maiuscolo in questo modo però magari per essere più più neutri più generici e magari per determinate classi di caratteri che includano anche dei caratteri particolari e non solo proprio la A B la C maiuscola ma magari anche altri maiuscoli che non sono quelli dell'alfabeto normale queste classi di caratteri sono fatti per quello ecco sono dei segni a posto per questi insiemi di caratteri è un'alternativa si possono usare tranquillamente di caratteri di caratteri